Tra le squadre impegnate nei vari campionati giovanili, la formazione juniors del Gela Calcio è sicuramente quella che sta regalando più soddisfazioni. La squadra, allenata da Mirko Fauciane, reduce da 13 risultati utili consecutivi. Primo posto in classifica a 34 punti con un vantaggio di 8 sulla seconda Santa Croce, avversaria del turno odierno. I ragazzi stanno andando molto bene, una crescita costante e come hai detto bene tu abbiamo ottenuto oggi 13 vittorie di file ma più che altro i ragazzi hanno mostrato veramente ambie immagini di crescita rispetto all'inizio d'anno. Un periodo d'oro per i giovani del tecnico gelese che si sono fatti trovare pronti anche all'appello della prima squadra. Questo diciamo che è l'obiettivo primario, è quello di riuscire a mandare più giovani possibili alla prima squadra, dimostrazione del fatto che i ragazzi valgono, valgono parecchio e la società cerca di valorizzarli. Anche perché diciamo che l'obiettivo è quello di essere un serbatoio per la prima squadra e colore il mister ritenga opportuno tirarsi fuori qualche ragazzo per rinforzare la prima squadra, noi siamo i più contenti visto che comunque i ragazzi lo meritano. L'obiettivo della società è quello di far crescere i giovani talenti locali per inserirli gradualmente nella prima squadra come dichiare al tecnico Faosciana. L'obiettivo dei ragazzi è quello di farli crescere bene, il risultato ha un aspetto secondario, nel senso che le partite si possono vincere e si possono perdere, ma quello che più conta alla società e quello che più conta a me personalmente è vedere che questi ragazzi giorno dopo giorno crescono sia a livello tattico, sia a livello tecnico, sia a livello educativo e questo diciamo che per la società diventa di primaria importanza visto che comunque l'obiettivo di inizio stagione è stato proprio quello mirato alla loro crescita. Per noi non c'è più grande soddisfazione quando il mister Bruccoleri ci chiama per dirci di dare qualche ragazzo che lui vede in allenamento, molte volte facciamo le amichevole in famiglia e diciamo che i ragazzi danno grande soddisfazione.